ahhhhhhhhh faccio fredda a Napoli che a Milano perchè stiamo in compa e Milano sta sotto hanno fatto 69 allè oh oh allè Allora ora la partita è troppo bella fai feste, fai feste facciamo come si dice Teresa come si chiama la cosa che mi fa che allo ui ui ti metti già un maschio bravo, ti metti già ah no ah tu a costitza è normale ah ah da natyre come stare adicare la cucuz avvice io mi faccio cucuzzie ah Teresa si quando da 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 no che sta via delle vigne. Allora c'è un briacama. No, no, aspetta, aspetta. Sì, perché il mio nipote va il 2 novembre, roppa all'occhio e mi fa vedere. Ma perché? Non si può parlare come si parlava una volta. Ci vediamo, venga pure il sabato, il 2 novembre, al teatro Aniene di Roma, con Ottavio Buonorme, Giovanni Battista, Scidà e Nucas. Insomma, tutte queste parole francese. Allora vi, ci vediamo in un domenico, ci vediamo in un domenico, ci vediamo in un bambino, e poi, se volete domenica, stiamo in un bambino, ci vediamo in un caffè, con me, e non volete voi? Come se stacca su casa, stop! ... ... ... ... ...